Le rappresentanti sindacali unitarie RSU dell'Ulsa 7 Pedemontana, a nome dei lavoratori dei reparti di maternità di Sant'Orso Bassano ad Asiago, hanno proclamato lo stato di agitazione per chiedere maggiore sicurezza per il punto nascite dell'altopiano all'ospedale di Asiago. A comunicarle una nota congiunta di FIP, CGL, FP, CISL, UIL, FP, NURSIN, NURSINAP, CUB e RSU. A ULSA 7 Pedemontana, lo stato di agitazione riguarda il personale in servizio presso le unità operative del Dipartimento Materno e Infantile di Bassano del Grappa, Sant'Orso ed Asiago. La proclamazione dello stato di agitazione nasce dalla consapevolezza della necessità di garantire un servizio sicuro e di qualità all'interno del punto nascite di Asiago per tutta la popolazione dell'altopiano, quale punto di riferimento per le molte donne che decidono di affrontare una maternità vivendo in un territorio montano, che causa la sua peculiarità, risulta distante dagli altri punti nascite del territorio, Bassano e Sant'Orso spiega l'annuncio dei sindacati. Al centro della mobilitazione il fatto che l'azienda sociosanitaria, dopo ben 18 mesi di discussione sul tema, non avrebbe ancora fornito risposte risolutive ai problemi evidenziati nei tavoli di discussione. In particolare, ad oggi non ci sono le condizioni per rendere autonomo il punto nascite di Asiago con organico dedicato, interrompendo la rotazione e il supporto da parte delle altre strutture ospedaliere.